CASE BIANCHE Non a caso ritenuta la più affascinante delle isole dell'arcipelago delle Baleari. A soli 7 chilometri dal caratteristico borgo dei pescatori di Fornell, a circa 24 chilometri da Mahon e 30 chilometri dall'aeroporto, affacciato direttamente sulla bellissima baia di sabbia di Sonsaura, una delle più famose dell'isola, sorge il Beach Club di Swan Tour. La struttura è un luogo ideale per le vacanze di tutta la famiglia. Mini club e giochi per i bambini. Animazione e sport per i più grandi. Una romantica terrazza vista mare su cui rilassarsi. La struttura dispone di 196 bilocali di circa 35 metri quadri, semplici e funzionali, composti da un soggiorno con divano letto, angolo cottura attrezzato e camera da letto separata, e sono dotati di ogni comfort. Servizi privati, cassetta di sicurezza a pagamento, telefono, tv satellitare, ventilatore, balcone o terrazza. Alcuni appartamenti dispongono di area condizionata, asciugacapelli su richiesta a pagamento. Il Beach Club, costituito da un edificio principale e da alcune palazzine a due piani, dispone di sala TV, ampia piscina d'acqua dolce con area per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini, connessione internet wifi, area giochi per bambini, parcheggio. A pagamento, internet service, servizio lavanderia, minimarket, negozio di souvenir. Per gli amanti della gastronomia, ristorante con servizio a buffet e show cooking con specialità di pasta elaborata dallo chef italiano. Serate a tema tre volte a settimana. Inoltre, bar, caffetteria e snack bar alla terrazza. Per gli ospiti più dinamici, ampia gamma di attività tra cui scegliere acquagym, balli, bocce, freccette, ping pong, campo polivalente e palestra. A completare l'offerta, il programma di animazione diurno e serale. Lo staff del Beach Club Swan Tour augura a tutti una piacevole permanenza. è unaiferation di sicurezza. Grazie a tutti